Chi come me è diversamente abile, è costretto a percorrere le strade di Trani sulla carreggiata piuttosto che sui marciapiedi. Comincia così la lettera che Gennaro Palmieri, presidente dell'Associazione Tranese Unione Lotta alla distrofia muscolare, indirizza al sindaco Amedeo Bottaro e che non avrebbe ricevuto risposta. Abbiamo fatto con il signor Palmieri una passeggiata lungo il quadrilatero che da via Goffredo porta a via Lambertini, in pieno centro, per comprendere la reale difficoltà che lui, come qualsiasi altra persona non disabile ma munita di passeggino, potrebbe riscontrare. Questa è stata una strada che io, da promotore di accessibilità, richiesto che si potessero fare questi benedetti scivoli perché ho badato sempre alla continuità del percorso. È inutile fare questi scivoli a macchia di leopardo e che sì, possono servire relativamente. I lavori di cui parla Palmieri riguardano la costruzione dei nuovi scivoli e che dovrebbero essere discussi e concordati con l'Ocaba in base alla data di segnalazione ed urgenza. Questo però pare non stia avvenendo più negli ultimi tempi con l'amministrazione Bottaro. Ho fatto orecchie di mercanti, dimostrando la poca sensibilità, come ho citato sulla lettera, e mi vorrei anche azzardare a dire la poca educazione perché una risposta la poteva dare. Non soltanto Palmieri avrebbe tentato di mettersi in contatto anche con gli uffici tecnici e l'assessorato che per Costituzione dovrebbe avere a cuore il tema. Ho pregato anche l'assessore alla disabilità che non dobbiamo badare a fare nuovi scivoli per dire che a Trani abbiamo fatto 300 scivoli, perché sostanzialmente i scivoli praticabili sono quelli di ultima generazione, quelli che sono stati fatti bene.